Il Vangelo di oggi potrebbe lasciarci leggermente perplessi. È un Vangelo infatti che parla di sofferenza. Il tema può sembrarci un po' strano proprio perché siamo in avvento. In avvento uno si aspetta che si parli di tutto ma non di sofferenza. Eppure Gesù ci ricorda quest'oggi che la sua esistenza terrena sarà proprio segnata dalla sofferenza. Gesù soffre perché la sua gente sarà incapace di riconoscerlo e di accoglierlo nella propria vita. Ancora oggi Gesù soffre ogni qual volta trova un cuore chiuso, un cuore incapace di accoglierlo, un cuore incapace di riconoscerlo. Per questo ciascuno di noi è chiamato a prendere una lente di ingrandimento, in un certo senso per scrutare nelle proprie giornate e cercare di trovare e di guardare bene a fondo quelli che sono i segni del passaggio del Signore nella propria vita e nella propria giornata. Prendiamoci questo piccolo impegno quando siamo per strada, quando siamo in casa, quando siamo a scuola. Guardiamoci attorno e chiediamoci dove sei Signore affinché io possa accoglierti nella mia vita.